Sono il capitano Marco Dubila di Pony 6, un delettore di specie di coloro, ovvero il primo fanatico. Ci tengo un po' a promuovere l'aeronautica e le specie di coloro in giro per l'Umbria. Qualsiasi richiesta cerco sempre del video di sì, perché sono veramente poche, poi in Umbria cerco comunque di tenere alto lo spirito aeronautico nella nostra regione. Il nostro lavoro, come tutti sapranno, qual è? Cercare quello di rappresentare l'aeronautica all'Italia, le nostre capacità in Italia e all'estero, con un programma di volo aereo collettivo. Andiamo a farla proprio per questo, perché la selezione piloti viene fatta prendendo piloti militari, quindi su base volontaria noi facciamo ogni anno una richiesta, in tutta Italia chi vuole via fare la selezione. I prerequisiti devono essere, bisogna essere piloti militari per l'onore che ci fa di essere nelle prese, del fatto di essere qui, soprattutto perché viene alla meeting di primavera, alla manifestazione che organizziamo a Castiglione del Lago e ci fa l'autista del trattore. l'autista del trattore. Nella finestra è la cosa più veramente assente, perché hanno insegnato di essere sempre più genuolo, se non è di essere più genuolo, se non è di essere più genuolo, se non è stato bravo. Allora, il truppo, il truppo, il truppo, il truppo stima e il diried'orgoglio, capitato Grazie a tutti. Grazie a tutti.